Carlo Verna, stamattina un momento importantissimo di formazione, si parla di social, volevamo parlare anche di Reggio 150, ma sei stato estremamente eloquente e hai spiegato bene tutti gli aspetti. Volevo dire, dal tuo punto di vista, quanto e se i social inficiano la professione del giornalista? L'ha detto molto bene il professore Arienzo, c'è una grande questione culturale di una trasformazione da governare che impatta sulla questione dell'opinione pubblica e questa è una cosa che noi dovremo fare insieme con le agenzie culturali di questo paese, in primo luogo le università. Poi c'è un problema che riguarda il ruolo del giornalismo rispetto al giornalismo occasionale, noi dobbiamo essere in qualche modo l'esempio per il giornalismo occasionale, non dobbiamo invece come una spugna assorbire dei miasmi che i leoni da tastiera riescono a produrre. È un contesto nel quale, lavorando assieme tutti i soggetti che rappresentano la categoria, potremo cercare di produrre qualche ricetta, non tutte le ricette perché occorrerebbe anche una visione che a livello mondiale ancora non c'è in questa fase di trasformazione, però dobbiamo sforzarci di fare il possibile con un recupero di una dimensione che è unitaria. Parlare di giornalista pubblico come si sta facendo non significa parlare di una cosa che non ha a che fare con il resto del sistema, significa che dobbiamo costruire un sistema che ha una sua virtuosità, una sua unità e che alla fine serva soprattutto al cittadino. Mi piacerebbe che l'ordine dei giornalisti si chiamasse ordine del giornalismo proprio per ricomprendere il diritto ad essere informato, il diritto di sapere della gente. Il problema, l'hai detto, è governare questo criterio che si sta praticamente diffondendo a macchia d'olio, quindi complicatissimo governare di sistemi tipo Facebook, tipo Twitter e quant'è. Sì, assolutamente, ci sono delle cose che fuoriescono dalla possibilità anche di chi si trova a svolgere una professione che è a cavallo con l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Convenzione Europea, quindi tutti possono in qualche modo svolgere nella libera espressione un'attività che è informativa. Noi però siamo i giornalisti professionali, abbiamo degli obblighi specifici, delle carte deontologiche e su quello che si dobbiamo fare la differenza con la formazione continua, con delle regole per l'accesso che ci mettono nella condizione di essere veramente formati e dobbiamo far capire che nella democrazia occorre la libertà ma occorre anche un soggetto che sappia governare questi processi verso l'opinione pubblica, altrimenti l'ossigeno per la democrazia sarà un ossigeno un po' confuso anche con qualche polvere tossica che è nell'aria. Grazie Presidente.